Ok ragazzi, ora andiamo a vedere come caricare in automatico i pollici trading in un'intracciabilità su ebay, mentre si fa dropshipping utilizzando amazon o aliexpress o altri fornitori. Prima di procedere però vorrei fare un piccolo appunto perché è importante caricare i trading numbers su ebay per tre motivi principali ragazzi. Primo è ovviamente vincere le controvessie per l'oggetto non ricevuto. Questo vale sia sui pay che su paypal, perché se un acquidente ci ha una controvessia per l'oggetto non ricevuto con il tre possiamo mostrare che l'oggetto è stato ricevuto e non perderemo dei soldi. Il secondo, forse più importante, è evitare le sospensioni ebay perché ebay si deve fidare di noi e può sospendere l'account con errore mc011 se non carichiamo di numeri di caricabilità. Andremo a vedere in dettaglio questo errore importantissimo del mc011 nel prossimo modulo che è quello che può rovinare il tuo business e il tuo account ebay. Ma ne parliamo nel prossimo modulo, nel primo video del prossimo modulo. L'ultimo motivo per i trading numbers è il customer care perché ovviamente se noi mettiamo un codice di tracciabilità per ogni oggetto, i nostri acquidenti avranno un modo per tracciare il loro pacco, saranno felici e soprattutto abbasseranno il numero di messaggi che ci inviano. Riceveremo meno messaggi chiedendolo dove il pacco, dove non il pacco, magari se è ritardo è stato consegnato ai vicini, con il codice di tracciabilità riescono a verarlo e ci abbassano la mole di lavoro. Perché ragazzi, il segreto per scalare il business, qualsiasi business, non importa, ora stiamo parlando di dropshipping su ebay, proviamo a parlare di marketing, proviamo a parlare di infoprodotti, proviamo a parlare di Shopify, l'unico segreto per scalare il business è automatizzare, automatizzare e delegare, delegare e automatizzare, solo questo, perché se noi spendiamo ore al nostro tempo facendo task, non c'è possibilità di focalizzarci sulle cose principali per scalare. Detto questo, ci sono due modi principali per inserire i codici di tracciabilità, il primo è manuale, se abbiamo due o cinque ordini al giorno può anche andare bene, ma se ne abbiamo cento, ovviamente ci richiede un sacco di tempo e dobbiamo automatizzare questo processo. Poi c'è il secondo modo, che è quello automatico tramite un software dedicato, che ora andremo a vedere qui in questa schermata. C'è un altro motivo per cui utilizzare il software, oltre a caricamente automatico del trading, è il fatto che se noi utilizziamo Amazon come fornitore, non so se voi avete mai acquistato su Amazon, se lo avete fatto, se niente vi sarà capitato, che Amazon spedisce con il proprio corriere, si chiama Amazon Logistics, è quando proprio Amazon ti consegna il pacco a casa. Cosa succede? Amazon Logistics ha un codice trading, perché solitamente inizia con un VA, con un numero a caso, che non viene supportato da eBay. Cioè se tu inserisci, per esempio, questo codice trading come corriere Amazon Logistics su eBay, eBay non lo leggerà, dirà che è inesistente. perché ovviamente non implementano il codice, diciamo, il corriere del loro VIMO con Paytos. Cosa fa quindi questo software per aiutarci? Converte automaticamente il codice di Amazon Logistics in un codice che è un servizio logistica supportato da eBay. In questo modo potremmo inserire, o meglio, inserirà automaticamente il software, i codici trading non supportati Amazon Logistics in codici supportati da eBay e potremmo dare tracciabilità anche negli ordini spediti automaticamente da Amazon.